Buongiorno a tutti, sono Janet. Questo è il mio studio d'art. Mi piace molto dipingere e anche a disegnare. Ho un tavolo per disegnare e anche un cavalletto. Questi sono i miei dipinti di acrilico. Mi piace molto dipinto olio. Questi dipinti sono Yorktown Bridge e e anche due piccoli che, come si dice, to start. Grazie.